Festival di Sanremo, come abbiamo segnalato più volte, blindato. Con la zona rossa ampliamente allargata, la città dei fiori e della musica è off-limits e in alcuni punti, tipo nell'aria intorno al Teatro Ariston, si può solo passare attraverso dei varchi i cui accessi sono presidiati e dove le persone vengono controllate anche con il metal detector. Zona rossa quindi estesa dal tratto di via Squashati tra Piazza Colombo e la Galleria degli Artisti che porta appunto al Teatro. Poi ci sono anche le telecamere di videosorveglianza a monitorare la zona, sono collegate alla sala operativa del commissariato. Inoltre sono state incrementate le transenne nell'area del red carpet, i principali varchi per l'accesso al teatro sono controllati con metadetecto e agenti con telecamere portatili, che dal punto di vista della sicurezza conta circa un impegno di 250 uomini al giorno. Sono previste inoltre bonifiche sia in teatro che nella sala stampa, qui le unità speciali e quelle cinofile sono impegnate costantemente a monitorare le zone sensibili ogni giorno per 24 ore, a fronte della presenza massiccia di cittadini che ruotano intorno al Gran Carozzone Festivaliero. Una città presidiata quindi da agenti militari in divisa e in borghese.